Allora ho realizzato questo kit a uncinetto adatto per principianti, è uno schema semplicissimo e nel mio video ho già fatto un video per il cappellino, lo trovate, vi lascio il link nella descrizione e alla fine di questo video e adesso vi faccio vedere come realizzare anche lo scaldacollo. Si lavora in circolare a spirale quindi è velocissimo veramente da fare e è molto bello perché vedete è double fast, può essere indossato sia con questa parte fuori che sarebbe in pratica il rovescio della mezza maglia alta, vedete che forma questo motivo che sembra quasi un lavoro a maglia, è molto bello, oppure può essere indossato sull'altro lato che questo è proprio il dritto della mezza maglia alta che fa questo motivo vedete un po' leggermente in diagonale e che forma appunto questi rombi molto belli, quindi questo è lo scaldacollo, adesso vi faccio vedere come farlo, ho utilizzato questo filato norvegia che è un filato appunto molto grosso lavorato poi con un uncinetto numero 6 che quindi crea una lavorazione piuttosto rigida e sostenuta quindi molto bella, questo scaldacollo può essere indossato anche come un collo, vedete, rigirandolo così può essere portato come un collo oppure può essere portato in vari modi, è elastico per l'elasticità che dà comunque l'uncinetto che non è la stessa dei ferri però è abbastanza elastico, col tempo tenderà ad allargarsi quindi non vi preoccupate se vi può sembrare stretto all'inizio tenderà molto a cedere, i lavori a uncinetto cedano sempre molto quindi anche se questo è un bel filato sostenuto quindi non cadrà, non verrà slargato però comunque verrà più morbido con l'utilizzo, quindi questo è lo scaldacollo, adesso vi faccio vedere come realizzarlo, io avvio una catenella di 75 maglie, quindi facciamo 75 maglie di avvio, poi la dobbiamo chiudere in cerchio perché la lavorazione sarà in cerchio, quindi per chiuderla in cerchio vedete mettetela su un piano, allora mettiamo il lato questo della catenella interno, la giriamo bene in modo che vedete che sia diciamo l'interno della catenella che sia tutto dentro senza ruotare ed essere fuori ed entriamo nella prima di queste catenelle con l'uncinetto e prendiamo il filo e facciamo una maglia bassissima in modo appunto vedete da chiudere in cerchio queste catenelle e formare appunto questo cerchio d'avvio del nostro scaldacollo, questo è più largo delle maglie che faremo, adesso vi faccio vedere come lavorarlo, allora una catenella per salire, allora poi le maglie vedete hanno una parte sopra una parte sotto, io prendiamo la parte sotto quindi andiamo a cercare questa parte sotto delle maglie, entriamo qui prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa, questa è la prima maglia, mettiamo qui un marca punti su questa per riconoscerla anche se insomma si vede abbastanza bene però ci servirà per contarle quindi una poi facciamo lavoreremo a mezze maglie alte come abbiamo fatto il cappellino quindi prendiamo il filo e andiamo a ricercare sempre la parte sotto vedete questa è quella che abbiamo lavorato questa è quella dopo e facciamo una mezza maglia alta ecco qua sono due adesso prendiamo il filo vedete questa è quella che abbiamo lavorato questa la saltiamo ed entriamo in questa dopo quindi ne saltiamo una e facciamo una maglia bassa poi prendiamo ancora il filo ed entriamo in quella dopo quindi ne facciamo due una dietro l'altra e poi riprendiamo il filo e ne saltiamo nuovamente una ed entriamo in quest'altra in pratica lasciamo una maglia vuota ogni tre quindi due le lavoriamo a fila due accanto vedete due maglie accanto e una la saltiamo in questo modo il bordo non tirerà perché questo è il bordo dal quale poi dovremo far passare la testa quindi non deve assolutamente tirare altrimenti sarà fastidioso da indossare in questo modo noi faremo inizieremo il bordo di avvio in modo più elastico ora qui si vede queste piegaturine non vi preoccupate perché poi comunque indossandolo si noterà meno quindi noi siamo partiti con 75 maglie e dovremo finire con 50 quindi ecco io sono già sbagliato controllate sempre vedete contate le bene gruppetti di due vedete gruppetti di due e uno maglia vuota quindi questa la saltiamo ed entriamo in questa dopo quindi fate molta attenzione e contate le maglie alla fine del giro ne dovremo avere 50 se ve ne manca una o ve ne avanza una non vi preoccupate la recuperate nelle ultime maglie cioè ho lasciate una maglia in più contatele magari bene prima di arrivare vedete due quattro sei otto dieci poi saltiamo quindi quella dispari sarà dopo aver saltato 11 e 12 prendete sempre la maglia la parte bassa della maglia quindi sempre nello stesso posto le maglie non prendete una volta sopra una volta sotto perché non vi verrebbe un bordo pulito quindi facciamo tutto il giro contando sempre quindi una la saltiamo entriamo in quella dopo questa è 13 e 14 quindi due maglie consecutive in due maglie vicine poi una la saltiamo e rientriamo in quella dopo ancora e ne facciamo altre due in ogni maglia una però ogni due maglie ne saltiamo una quindi lavoriamo su gruppetti di tre maglie e contate bene il giro io adesso arrivo in fondo e vi faccio vedere come fare le ultime ecco qua io sono a 48 quindi ne salto una 49 e 50 l'ultima ecco qua quindi quando siamo a 50 ci andiamo a riattaccare sopra questa maglia con il marca punti quindi togliamo il marca punti prendiamo bene vedete le due magline sopra della maglia le due parti sopra della maglia e facciamo la nostra maglia bassa ma mezza maglia alta e questa mettiamo il marca punti su questa che questa sarà la prima maglia del giro ok da qui in avanti quindi continueremo a lavorare in in circolare questa qui vedete un po più alta ma poi quando fermeremo il filo lo nascondiamo e non si noterà quindi continuiamo a lavorare in a spirale quindi senza mai chiudere il lavoro e a questo punto non perderemo neanche le maglie perché noi lavoriamo già proprio a spirale questo tipo di lavoro se dovete cambiare colore non la fate con un colore unico come sto facendo io ma dovete fare per esempio volete fare uno scaldacollo a strisce colorate non fatelo a spirale perché vi verrà male la cambio colore quindi in quel caso guardate il tutorial del cappellino dove vi faccio vedere come iniziare come finire i giri dopo gli aumenti quindi basta che guardiate dopo il giro numero 7 per vedere come lavorarlo e vedete proprio come lavorarlo senza lavorare a a spirale in questo modo questo invece io non abbiamo aumenti né niente quindi lo iniziamo a lavorare subito a spirale in modo che è molto più semplice perché non si perdono vedete maglie non si rischia di sbagliare e perdere o fare aumenti o diminuzione aumenti ma andiamo sempre così quindi in ogni maglia del giro precedente facciamo una mezza maglia alta come abbiamo fatto per il cappellino quindi ve lo faccio rivedere bene carichiamo il filo entriamo dentro la maglia prendendo bene le due magliene riprendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme in una volta sola queste sono le mezze maglie alte quindi ve l'ho già fatte vedere nel cappellino adesso la stessa cosa facciamo nello scaldacollo solo che qui vedete lavoriamo senza aumenti lavoriamo tutto in circolare quindi noi andiamo avanti tutto così per tutta l'altezza che desideriamo finché non finiamo il gomitolo insomma dipende quanto lo vogliamo fare alto il primo giro vedete rimarrà molto morbido ma va bene perché non deve tirare lo terremo giù sarà la parte sotto del nostro scaldacollo comunque vedete è una parte bella pulita venuta bella ordinata quindi non ci saranno problemi comunque estetici diciamo se anche lo mettiamo al contrario uguale perché non si vedrà quindi a noi andiamo avanti così per tutto l'altezza che vogliamo poi io ve lo faccio vedere quando sarà finito l'ho fatto solo di 50 maglie che rimarrà abbastanza accollato ma siccome tende un po accedere il filato e l'uncinetto è abbastanza rigido vedete non allarga tantissimo farlo troppo largo dopo qualche tempo che lo usate o basterà lavarlo qualche volta che un pochino cede e dopo diventa un più fastidioso perché comunque l'uncinetto è più rigido rispetto ai ferri e quindi se rimane un po largo è scomodo da utilizzare come scaldacollo quindi andiamo avanti così e poi vi faccio vedere quello che otteniamo ecco qua finito guardate come è venuto carino quindi questo vedete è il risultato io ho utilizzato un gomitolo completo di filato guardate che carino la misura è giusta e mi è venuto 28 centimetri di larghezza ovviamente per due perché è un po aperta un pochino di più ora io lo misuro così chiuso diciamo 28 e 28 sono 56 più o meno saranno 57 aperto comunque 28 centimetri di larghezza per un'altezza di 20 centimetri che è l'altezza giusta appunto per questo tipo di scaldacollo questi e uncinetto rimangano un pochino più rigidi rispetto a quelle ferri quindi non fatelo troppo alto già così è molto alto e la parte più larga vi conviene indossarla proprio sotto al collo proprio la parte così in questo verso qua indossatelo in modo che questa parte si adatti all'inizio rimarrà un pochino più attillato però poi cederà come tutti i lavori è un po a uncinetto un pochino cedono sempre anche questo vedete a questo bel motivo che riguarda il cappellino perché ovviamente è stato fatto con lo stesso punto del cappellino che può essere indossato sia su un lato che sull'altro guardate quanto è carino anche su questo lato qui a me piace molto l'effetto diciamo a rovescio della mezza maglia alta lavorata in circolare vedete fa questo effetto proprio così come se fossero proprio delle maglie fatte ai ferri quasi lavorato in orizzontale ferri quindi questo è il risultato dello scaldacolla anche questo lo potrete indossare con rigirato come un collo perché è abbastanza stretto vedete lo potete di girare così a metà e inossare come un collo e altrimenti ecco appunto può essere indossato su entrambi i lati anche qui fermate i fili io mi sono fermata quando ho finito il gomitolo in realtà non ho non ho fatto attenzione a finire sullo stesso lato dell'inizio normalmente ecco fateci è un pochino più attenzione perché adesso anche se fermando il filo vedete nasconderemo lo scalino un pochino rimarrà comunque e lo stesso in fondo anche qui un po di scalino rimane con l'avvio vedete quindi è meglio che siano sullo stesso lato in modo che rimangano lo possiamo portare sul dietro del lavoro quindi adesso magari sfaccia un pezzo e torno indietro per arrivare sullo stesso lato dell'avvio quindi anche qui con un fi con un ago un filo prendete il filo lo mettete bene giù in modo da nascondere il più possibile lo scalino e lo nascondete come vi ho fatto vedere anche già nel video del cappellino vi ho fatto vedere come nascondere i fili quindi questo è il kit scaldacollo più cappello